Con la valigia in mano mi lanciai gridando sul treno che già si scrollava per partire. Potei a stento afferrarmi a un vagone di seconda classe e aperto allo sportello con l'aiuto di un conduttore accorso su tutte le furie mi cacciai dentro. Benone. Quattro donne lì, due ragazze e una bimba lattante, esposta per giunta, proprio in quel momento con le gambette all'aria, sulle ginocchia ad una goffa balia enorme che stava tranquillamente a ripulirla con la massima libertà. Mamma, ecco un altro seccatore. La signora si turbò, ma finse di non sentire e seguitò a leggere. Scioccamente perché il ragazzo, come era facile supporre, tornò ad annunciarle con lo stesso tono. Mamma, ecco un altro seccatore. Zitto, impertinente, gridò stizzita la signora, poi volgendosi a me con ostentata mortificazione. Perdoni, signore, la prego. Ma si figuri, ne scramai io sorridendo. Il ragazzo guardò la madre, sorpreso dell'improvero, e parve che le dicesse con quello sguardo. Ma come? Se l'hai detto tu. Poi guardò me e sorrisse così interdetto. E nello stesso tempo, con una mossa così birichina, che io non seppi tenermi dal dirgli. Sai, carino, se no perdevo il treno. Il ragazzetto diventò serio. Fissò gli occhi, poi, riscotendosi con un sospiro, mi domandò. E come lo perdevi? Il treno non si può mica perdere. Cammina solo con l'acqua bollita sul binario. Ma non è una caffettiera, perché la caffettiera non ha ruote e non può camminare. Parve a me che il ragazzo ragionasse a meraviglia. Ma la madre, con un fare stanco e infastidito, lo rimproverò di nuovo. Non dire sciocchezze, carino. L'altra ragazzetta, di circa tre anni, stava in piedi sul sedile, presso il balione, e guardava attraverso il vetro del finestrino la campagna fuggente. Di tanto in tanto, con la manina toglieva via l'appannatura del proprio fiato sul vetro e se ne stava zitta zitta a mirare il prodigio di quella bella fuga illusoria d'alberi e di siepi. Mi voltai dall'altra parte a osservare le altre due compagne di viaggio che sedevano agli angoli l'una di fronte all'altra, tutte e due vestite di nero. Erano straniere, tedesche, come potei accertarmi poco dopo udendole parlare. Una, la giovane, soffriva forse del viaggio. Doveva essere malata. Teneva gli occhi chiusi, il capo biondo abbandonato sulla sbagliera, ed era pallidissima. L'altra, vecchia, dal torso erto massiccio, bruna di carnagione, pareva stesse sotto l'incubo del suo ispido cappelletto dalle falde dritte, stirate. Pareva lo tenesse come per punizione in bilico, su pochi grigi capelli chiusi e impastrocchiati entro una reticella nera. Così, immobile, non cesava un momento di guardarla giovane, che doveva essere la sua signora. A un certo punto, dagli occhi chiusi della giovane, vidi sgorgare due grosse lacrime e subito guardare in volto la vecchia, che strinse le labbra rugose e ne contrasse gli angoli in giù, evidentemente per frenare un impeto di commozione, mentre gli occhi, battendo più e più volte di seguito, frenavano le lacrime. Quale ignoto dramma! Si chiudeva in quelle due donne vestite di nero in viaggio, lontane dal loro paese. Chi piangeva o perché piangeva, così pallida e vinta nel suo cordoglio, quella giovane signora? La vecchia, massiccia, piena di forza, nel guardarla pareva si struggesse dall'impotenza di venirne in aiuto. Però non aveva quella disperata remissione al dolore che si suole avere per un caso di morte, ma una durezza di rabbia feroce, forse contro qualcuno che le faceva soffrire così quella creatura adorata. «Non so quante volte sospirai, fantasticando, su quelle due straniere. So solo che di tratto in tratto, a ogni sospiro mi scuotevo per guardarmi intorno. Il sole era tramontato da un pezzo. Perdurava fuori ancora un ultimo tetro barlume del crepuscolo. Ora, angosciosa per chi piangia. I due ragazzi si erano addormentati. La madre aveva abbassato il velo sul volto e forse dormiva anche lei, col libro sulle ginocchia. Solo la bambina lattante non riusciva a prendere il sonno. Pur senza vagire, si dimenava irrequieta, si stropicciava il volto. Coi pugnetti tra gli smuffi della balia che le ripeteva sottovoce «La ninna, cocca bella, la ninna, cocca!» e accennava, svogliata, quasi prolungando un sospiro di impazienza, un motivo di nenia paesana. «Au, au, au, au!» Ad un tratto, nella cupa ombra della sera imminente, dalle labbra di quella rozza contadina, si svolse a mezza voce, con sua vitae inverosimile, con fascino di ineffabile amarezza, l'anenia maestà. «Vello, velo, sì, te, fammi, fammi la ninna, chi t'ama più di me, figlia, ti inganna!» Non so perché, guardando la giovane straniera, abbandonata lì in quell'angolo della vettura, mi sentii stringere la gola da un nodo angoscioso di pianto. Ella, a canto dolcissimo, aveva riaperto i begli occhi celesti e li teneva invagati nell'ombra. Chi pensava? Chi rimpiangeva? Lo compresi poco dopo, quando udì la vecchia vigile, domandarle piano con voce oppressa dalla commozione, «Vis tu laine amme, na? Vuoi accanto la tua nutrice?» E si alzò, andò a sederle a fianco, si trasse sull'arido seno il biondo capo di lei che piangeva in silenzio, mentre l'altra nutrice, nell'ombra, ripeteva alla bimba ignara che rimpiangeva, «Chi t'ama più di me, figlia, ti inganna!» – Sì, i